Una raccolta a fondo iniziata mesi fa, tanta determinazione uniti ad altrettanta generosità per la realizzazione di un sogno, quello di Angelo Angeletti, il giovane fanese di 24 anni affetto da una disabilità motoria che coltiva tra le sue passioni quello dello sport ed in particolare per la bicicletta. Un amore avuto sin da piccolo, una vera e propria vittoria e un desiderio finalmente concretizzato perché come in ogni pedalata c'è una partenza ed un arrivo vittorioso. Dopo circa un mese infatti la tanto attesa consegna della bici a Fano dopo essere arrivata in un negozio specializzato al furlo lo scorso 29 giugno. Una bicicletta azzurra a tre ruote in grado di regalare un sorriso ad Angelo e alla sua famiglia poiché consente di superare le difficoltà motorie grazie a dei sistemi innovativi. Angelo come va questa bicicletta? Allora questa bicicletta va bene perché vado moltissimo forte, mi piace molto, mi piace andare in bici con tutti, con la mia famiglia, compagnia bella e anche con gli altri, anche con i muli, anche con gli amici nostri, anche con la compagnia bella. Il 29 di giugno quando ti hanno consegnato questa bicicletta al furlo c'erano i muli stracchi, avete fatto un giro? Abbiamo fatto un giro con i muli stracchi che hanno consegnato questa bici e abbiamo fatto anche un rinfresco, un rinfresco all'intorno che abbiamo mangiato la piadina, i dolcetti. Avete passato una bella mattinata, quanto sei stato contento di questa bicicletta? Molto, molto, a me mi piace molto, mi piace molto andare in giro ecco perché non posso, posso parlare un attimo, non posso stare a casa, inchiuso sempre dentro casa. Dove sei andato per Fano? No, siamo andati sul centro, sul centro di Bellocchi, al Pincio con la bici, mi sono divertito un sacco. Chi vuoi ringraziare di questo bel regalo che hai avuto? Eh, li voglio ringraziare a tutti perché da questo regalo che ho avuto mi è piaciuto un sacco e poi mi è piaciuto stare anche con gli altri. Perché a te piace tanto stare con gli amici in compagnia? Sì, mi piace molto stare con gli amici perché quando ho gli amici intorno sono casato. Perché gli amici sono importanti? Gli amici sono importanti e poi c'è anche una mia compagnia, la mia compagnia che viene sempre via con me, andiamo sempre in giro. E allora ti vogliamo vedere in giro con la bicicletta, con gli amici e ti vedremo in giro per Fano. Allora buon divertimento Angelo. Grazie a tutti che mi piace da un sacco, mi piace da morire.